Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori ci sono due chilometri di coda tra Empoli e Montelupo-Fiorentino in direzione Firenze e due chilometri di coda tra Ginestra-Fiorentina e Montelupo in direzione Livorno. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. In A1 in direzione Roma rallentamenti tra Aglio e Calenzano-Sesto-Fiorentino. In A11 i coda a tratti tra Prato-Ovest e l'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze. Incidente tra Sesto-Fiorentino e Peritola sempre verso Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina si ricorda che a Firenze in via Pistoiese è stata aperta al transito il nuovo collegamento tra via di Cocco e via dell'Osteria. Informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!